pensiero e azione c'è chi pensa studia e poi agisce e c'è chi agisce poi pensa e impara io sono della seconda razza sono per i tuffi di pancia per l'azione prima del pensiero sono per l'esperienza pura quella che nasce da una programmazione sommaria dell'anarchia sentimentale dal primato dell'imprevisto anche il viaggio lo affrontò così come l'amore vento di maestra spinge e pulisce il mare ma sotto vento son qui consumando onde che tagliano la pelle naufragandomi